La pista più battuta è quella legata agli ambienti di estrema destra. Sembrerebbero vicini ad una svolta le indagini della Digos per accertare chi abbia spedito tre giorni fa i tre pacchi contenenti teste di maiale alla comunità ebraica di Roma. Intimidazioni giunte sabato scorso proprio in prossimità del giorno della memoria, oggi 27 gennaio, in cui si ricorderà la Shoah definita da Papa Francesco una vergogna per l'umanità. Mai più si ripetano tali orrori, ha scritto Bergoglio al rabbino di Buenos Aires. In occasione delle manifestazioni di oggi le forze dell'ordine nella capitale hanno intensificato i controlli nei punti sensibili e nei pressi della sinagoga. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e con il passare delle ore si consolida l'ipotesi del reato di istigazioni all'odio razziale. Numerose le iniziative che si svolgeranno in tutta Italia, in particolare a Roma, in mattinata al Quirinale il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ricorderà la Shoah insieme con ex internati, deportati e studenti. Il ministro per l'integrazione Chienge e il sindaco di Roma Marino saranno all'auditorium Parco della Musica dove gli studenti che lo scorso ottobre hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz incontreranno gli ex deportati Piero Terracina e Sami Modiano. Nel pomeriggio alle 15.30 il presidente della comunità ebraica Riccardo Pacifici pianterà un ulivo insieme al presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori del Parco della Pace.